Ritorno in promozione, tanta voglia di far bene, difficoltà sicuramente ce ne sono, ma la consapevolezza di aver cercato di fare il massimo sotto ogni punto di vista, sia a livello tecnico che societario. Abbiamo preso un allenatore giovane con tanta voglia e con grande forza di volontà, sicuramente pecchiamo in esperienza, la società ha fatto sei anni fa per la prima volta la promozione, questa è una seconda volta, sicuramente i giovani non hanno esperienza in categoria e anche di prime squadre, per cui sicuramente pagheremo un pochettino lo scotto dell'ambientamento da parte di tutti. La convinzione è però che c'è qualità e quindi la speranza è quella di venirne fuori bene, sicuramente. Ci sono sicuramente giocatori interessanti, giovani, vediamo durante il corso del campionato, non vorrei portare sfortuna e quindi per scaramanzia non parlo, sicuramente ci sono alcuni elementi molto molto validi e molto interessanti. Io mi aspetto tanto, mi aspetto tanto nel senso che siamo convinti con Pasquale di aver creato un gruppo che in questa categoria ci possa stare nella maniera più assoluta e quello che vogliamo è rimanerci, non possiamo pensare in questo momento di avere delle aspettative che vadano oltre quelle della salvezza. Però alla salvezza, una salvezza che vorrebbe dire anche entrare nella storia della gratta e ci crediamo, insomma. Un gruppo è un buonissimo gruppo, un buonissimo gruppo che ha una base di partenza dettata da quegli otto reduci dalla cavalcata dell'anno scorso, a cui abbiamo aggiunto come vecchio Mulfari, un decano della promozione e gli altri poi gli abbiamo aggiunto un buon gruppo di giovani che ci devono garantire anche loro qualcosina in più. Io credo che in promozione la differenza la facciano veramente le squadre che hanno dei giovani all'altezza e noi siamo convinti di aver trovato 4-5 ragazzi che ci possono stare in questa categoria indipendentemente dal fatto che siano dei fuori quota. Non piace tanto parlare di modi, nel senso che credo che una corsa fatta in avanti o indietro, i 10 metri, va a stravolgere quello che poi è il disegnino sulla lavagna o quello di schieramento in inizio campo. Quello che voglio è che le mie squadre stiano in campo con equilibrio, indipendentemente dal fatto che possano esserci 3 o 4 attaccanti o 3 difensori, 4 difensori. Eh sì, ci eravamo lasciati bene. Adesso ripartiamo quest'anno in promozione. Beh, io ho già provato questa categoria sempre con la Grate, non è andata molto bene. Speriamo di migliorare sicuramente quella stagione. Quali errori non deve commettere la Grate per centrare il proprio obiettivo? Non deve sottovalutare le partite la domenica. Deve entrare in campo motivata, compatta, aggressiva e ogni domenica deve lottare perché essendo una neopromossa deve farsi valere. Per quanto hai potuto vedere in Coppa e nella prima di campionato a che punto senti? Ma c'è ancora da lavorare molto, però i giovani acquisti meritano la categoria. Possiamo fare bene. Matteo, seconda stagione in maglia a Grate, un ritorno in promozione per te? Sì, direi di sì. Dopo l'anno rurano, abbastanza felice, diciamo, è un terzo posto importante. Siamo ritornati in categoria. Sono ritornati in categoria anche grazie alla Grate che con tutta la società i ragazzi mi hanno dato una mano a tornare in questa bella esperienza della promozione. Non è cambiata più di tanto. Ovviamente i giovani fanno la differenza da questo punto di vista, però il livello è sempre più o meno uguale. Direi che c'è un po' più di inesperienza dal punto di vista caratteriale dei ragazzi, ma per il resto diciamo che è abbastanza ben calcio giocato. Obiettivo salvezza? Obiettivo fare il massimo che possiamo. Quello che è nelle nostre possibilità. Io spero qualcosa di più. Hai un giovane come alternativa. Ti senti pronto alla sfida? Assolutamente sì. Mai mancato delle sfide. Sicuramente voglio rispondere come sempre risposto, quindi positivamente.